Paolucci avete contestato l'approvazione del cosiddetto cuore Abruzzo 2, quali sono le problematiche maggiori che sono emerse e quali sono le contestazioni che muovete raggiù da Marsilio? Le criticità sono sostanzialmente tre. La prima è stata dichiarata dallo stesso Presidente Marsilio che in sostanza ha avallato quelle che sono le nostre considerazioni. Le coperture sono incerte. Dei 60-70 milioni di euro promessi alla comunità degli abruzzesi, 19 sono certi. Tutto il resto è da ancora definirsi. In secondo luogo noi abbiamo contestato questo metodo che ha escluso tutti, in particolar modo, le parti sociali. Una situazione più unica che rara è quella di avere tutte le parti sociali, dai sindacati alle associazioni di categoria a quelle datoriali, contro questo metodo che ha escluso il mondo dell'economia dalla concertazione degli obiettivi di questa norma. Terzo, manca un progetto e una visione della nostra regione. Per fare solo l'esempio del turismo, uno dei settori più piegati dalla crisi, mentre altre regioni hanno portato avanti progetti, visioni e strategie, qui noi ci limitiamo su soldi ancora ipotetici, cioè ancora da essere stanziati a trasferire a fondo perduto una serie di somme, ma manca un progetto complessivo. Nonostante questo, il Partito Democratico ha portato avanti una serie di battaglie che sono state anche recepite, come quella della borsa di studio, delle zone rosse e il ristoro per quanto riguarda i balneatori colpiti dalle mareggiate e che si trovano in questa condizione ulteriormente in difficoltà. Ciò però non basta a far cambiare il nostro giudizio e porteremo avanti insieme alle parti sociali un percorso diverso e un'idea diversa e strategica su un grande progetto di rilancio per quanto riguarda la nostra regione.